Per 40 anni ho diretto imprese, aziende, associazioni, creato tavoli, costruito ponti, questo qui è sempre stata la mia caratteristica, le persone hanno conosciuto questo Andrea e oggi dicono che era giusto che tu dopo 40 anni che facevi altro, prima di andare in pensione tu possa fare questo bene anche dentro la politica, la politica troppo spesso viene vissuta in termini di distanza, di una cosa necessaria, ma sostanzialmente a volte sconosciuta e quindi che persone normali, semplici, imprenditori, professionisti, gente del volontariato, dell'associazione si sia implicata con Michele De Pascale per fare una lista civica, realmente civica, questa cosa qui colpisce e chiama anche gente magari a votare, credo che il tema dell'astrezionismo sia un tema molto forte, non solo nei giovani, ma anche nelle persone un po' disnamorate, disilluse, non coinvolte, che si sono sentite poco coccolate, poco ascoltate dalla politica. Il mio tentativo è proprio questo, da un lato di rispondere a questo bisogno che c'è di normalità nella politica, anche di buonsenso, di capacità di costruire relazioni, ponti e non contrapposizioni, è stata una caratteristica nella mia vita, la metto a disposizione della politica.